Per Giorgia Meloni, fratello d'Italia N, la nomina di Federica Mogherini lascia un sapore amaro perché le resistenze dei governi dell'est europeo sul suo nome sono venute meno solo dopo che il governo italiano ha dato il via libera alle sanzioni contro la Russia che stanno mettendo in ginocchio l'agroalimentare italiano.